Allora Poi appena puoi mette Se me lo riesci a dare lui Ma per favore Che non lo riesca a trovare io Quello dove dove decidere i poteri E cose del genere Perché c'è Giovino Che ha dato Infatti Sono costretto a levare il mod a Giovi I guess Che ha dato le pagnotte A Wescog e Marx Per fargli demare A Rengar Sentinella Che io stesso non mi aspettavo Io non me l'aspettavo Non so se hanno già Ritimato le skin o meno Ma È una cosa che non era da fare Decisamente no Quindi E mi serve pure il comando Per Stimplements Per levare le cose a Giovi Se ne passate il comando Che dà tutte le cose Oh Le fate in piacere Perché non riesco a trovarlo Io nei comandi Ma Pirate Racing Che cazzo l'ha messa Scusatemi Non è lo story Tipo i moduli Che vi dice Eh grazie Ruben È il tuo sogno King E il premio è chi l'hai dato Scusami Fammi Fammi vedere Mamma mia Mamma mia I didit Qui cane Grazie mille Abbiamo Non lo segno Grazie Grazie mille del supporto Sir Kings Abit TV The Kings Abit TV Primo mese Twitch Prime Benvenuto Nelle cani di cane Riavvia live Così non vedrai più La pubblicità Su questo canale Va bene Buono E benvenuto Un'altra volta Nelle cani di cane Dopo le cittadine Dove guardarti Un incognito Addirittura Un incognito Mette vero Se il tuo nome Non me lo ricordo Effettivamente è vero Non me lo ricordo Il tuo nick Muoio Porca troia Un tick L'avrei killato Se avessi flashato Volevo flashare la Q Volevo flashare Non ci sono riuscito Drink preferito Non ce n'ho uno Coca Cola Coca Cola Ho trollato Tipo qua Ok Dovrei aver levato E in realtà Credo sia meglio così A menù L'ho preso un assist Ovvero L'è meglio così In altra cosa E' bastata meglio Mica E' spesso Addio Gucci Ritendo la zonia Ma sapete Vi dico Ma l'altro Ritendo la zonia Un cazzo Chat Frozen Earth AD 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 Chat We are gonna do it Frozen Earth Primo item Grazie Abbio Per il link Ok Ray Ciao Ray Vedo da qua Eh si Penza che vado vicino al muro E la vedo proprio lì invece Non l'ho preso Conqueror Il cazzo dovrebbe Conqueror Smartfabu qua Diana 5 Dero San Perfetto. È good farla così presto con il gioco in alpine. Sì, sì, va bene, va bene. Va benissimo farla. Aspettiamo i soldi. Wait, Pyke. Ok. E infatti come sta Giuliamed? Sei ripresa? Arrivo. Non c'ha la ulti. Piana. Ok. In un instante tutto potrebbe essere fuori. Fortissimo. Frasmer time coming. Frasmer time coming. Sto sempre male, ma meglio degli altri giorni, tu. Come sta male pure te, Ray? Che hai fatto pure te? Che hai fatto pure te, Ray? Pure Ray sta male. Ah, sei Giulia! Ok, Giulia. Meno male, sono contento che ti stia riprendendo. Bella Waterwise, non pensavo ci sia streaming. Samuele, oltre a questo a fare streaming ho aggiunto anche delle emoticon animate molto carine. Fa però di essere sub più sale. Dall'altro, signor Kings, adesso che sa puoi usare anche le emoticon animate. Ma quindi a chi leva il mod? Ho levato il mod da Jovi. Ehm, perché... Io, ce l'ho detto, ce sono i miei amici, in realtà non mi aspettavo. Magari per loro era una cazzata così, però... Cioè, per me è importante anche perché io non posso dare codice a chi mi pare, perché sennò mi levano il programma, e così è letteralmente fare... A chi mi pare, tra virgolette. E... Mi levano il programma Riot. Ha dato le pagnotte, o si è messo le pagnotte da solo per dare i punti a... 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 Per ritornare i codici di Rengar Settinella. Infatti voglio chiedere scusa... A tutti voi anche, perché magari ci sono tre codici in meno... Anzi, magari due, perché magari sicuramente uno l'ha fermato Jovi, però... Questo, voglio chiedervi scusa a voi per quello che è successo. Non mi aspettavo lo facessero col tutto qua. Posso arrivare o non posso arrivare? Ok. No, si può riscattare ancora Shadow, fino al 30 Agosto. No, non dovrebbe succedere Valerio in realtà. Però... È successo. I guess. È successo 20 minuti fa. Me ne sono accorto perché ho visto... Solo manco me hanno chiesto. Cioè, me ne sono accorto perché... L'ho visto. Tra le cose. Qua si fa snert. Come cazzo si fa? Io non so neanche se basta. Non servono 7500. Devi andare sullo store. Ma come ho preso? WTF? Ma ho mai preso due minuti ultimi. Ma cazzo. Ho preso abbastanza distanza dal muro. Invece mi sbagliavo. Mi sbagliavo, non puoi cessarla, non ce la fai. Ma è bad. Mi sono sbagliato io. Andare di dubbio non c'è senso. Andiamo a Dimension Pen. Però faccio correre a Zonya. No. 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 Um, sicuramente. Ho risolto. Rekko dovrebbe avere un tra Brock canire. Ingagio, ingagio, ingagio. 6, 4, vado più adesso Very good, ho pure le magic pen e si vuola Dici Gris, dici Andiamo agli archangel No, prima dell'archangel dobbiamo fare Possiamo fare l'Everfrost in realtà Non serve male Ieri ultimo si ha bruciato la maglia originale di Leonardo Quando erano in un'unità del toro che pensavano ad assalziti Holy shit, calo Che cosa, Valerio? Eh vabbè, David, ma che cazzo ne sa? E' inutile, sto troppo letto An ally has been slaved 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 Is my first Avete tornato Imo Per il subtender Non so come funzionerà esattamente Ci sarà il 20% di riscontro sui sub Costerà 3,20€ e anche donarli costerà di meno E qui ci saranno sempre le promozioni Per chi vuole fare il sub più lungo Non mi dispiace però così ho poco danno Per chi vuole fare il subito Poi che ma che cazzo ha fatto Eh ma peccato l'ho doveva scappare Non c'ho mano se ne gli do una mano qua In top Sono sul Macy Mates Quanti era Hecton dovrebbe asfattarla Riven? Dovrebbe dovrebbe Ok Ok Let's go Arrivano da qua loro Ok tra un loro QD c'è Diana QD 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 Perciò è stato a porta spasso eh? Fanculo a me dude My bad My bad Due da in sego Poi gli archangel Picchiamo la east o facciamo l'herald pure Usa il pillar Faccio tutto in sego, mi manca poco per la nidlessia, l'ho stunto aspetto alla nidlessia, sicuro Non approfitto di dare una altra nandale Comunque la nid abbiamo molto più impatto, ci fate caso in questi game quanti impattiamo la nid? Cioè Riven stava vincendo un bel matchup Un'altra 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 No, come si è fatto? Penso che c'esse il Pillar. Fine. Gaming of Seat, Sbambo e Riccardo grazie al follow. Era Ghostbreed. Belli del Muccio. Ancora io. Manca poco la mia... Ora che devo essere asceso. Chiana! Ma si vede bene secondo voi quell'emoticon? È meglio farla di lato secondo voi? Cioè tipo è meglio farla così? È meglio di lato? Allora poi quando posso lo faccio. Signor Dave. Per l'amor di Dio. Grazie mille del supporto. Sesto mese. Nuovo beige sul canale. Ragni di cani. Eri benvenuto a ragni di cani. Come stai Dave? Dirato? Allora poi provo a farla di lato quando ho tempo. C'è ult, ult, ult. Insomma. Eh, tanko un bel po', solo che è avvenuta pure Diana. E Gin non si sa perché erano i miei exhaust. Sammi l'avevo tancato un bel po', eh. E c'era pure Diana. Non pensavo venisse loro a fare un pick in 3 quando eravamo in 2, in mid e quando loro c'erano uno morto. E tra l'altro chi ha una botta da soli. È un po' inintata quella da parte loro qua. Ieri uscita poi però... Ah, c'è l'inintata. Un cane mod check? Ma è tutto copiato poi. Ma il problema di Twitch è che gli servono quadrate... Le gif. E oltre al fatto che servono quadrate, devono avere una massima... Un massimo peso. È quello il problema. Come cazzo faccio a fare una gif che... Di 4800, 4800 che pesa meno di un mega? Come faccio? È possibile? Se comprimi. Eh, bro, vai a vedere. Così ma c'è il posto, game. Matteo, ho letto sul gruppo. Che devi valutare? Sono buonissimi, no? Cane, ho appena perso il rank su Rainbow. Cacchierò. Cacchierò. Ah, bro. Meglio su Rainbow che perdere... 100... 1000 euro su... Ah, le slot. New World non so se lo perderò. C'ho tante cose da fare sto periodo. Sia tra LOL che... Che su poker. Ma anch'io ho fatto il gif, Matteo. Di nulla, games. Sono qui per questo, bro. Sono qui per questo. Non so se cosa vuoi mettere il cuscino dietro. Aspetta, Coggins dopo tre ore e quindici non è il massimo. Notivo. Non so se vuoi. Non so se vuoi le piede. C'è la luce di tutto. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti 25k sono tantini eh Era brutto fai dare qua perchè loro c'hanno Chiana E lì c'ha un bel fight Chiana Quindi fai dare i spazi stress per noi non ha senso Wow Ma qualche volta viene i games Però l'ol mi piace tanto Quindi Bella build canelupo Grazie Mico Grazie Ma perché li ha uniti? Grazie 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 Ma perché? Ciao Scarlett Grazie mille del lost Non ho neanche visto Scusami tanto Scarlett Che l'ho preso dal game Buona giornata Grazie mille del lost ancora Ha un bug Un bel bug di merda Vole però ci diceva Cazzo sono safe Boom Non è entrato Mangi con noi Non sceno io Manca veramente poco Non è entrato Non è vero, Drago. Sì, è qua che tutto loro sono tutti in bot side. Mi sono riuscito a zonar. Mi sono riuscito a zonar. Mi sono riuscito a zonar. Mi sarebbe il Conqueror. Mi sono riuscito a zonar. Mi sono riuscito a zonar. Mi sono riuscito a zonar. Mannaccia. Chat non lo paghiamo. Vediamo che succede.